Importanti novità sui vaccini. A chi ha maturato 5 mesi dalla seconda dose del vaccino ma si ammala di Covid, i vertici della sanità toscana consigliano di effettuare la terza dose dopo 3 mesi dalla malattia, come ci ha anticipato il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASA Toscana Centro, Renzo Berti, e questo in attesa delle nuove disposizioni nazionali. Secondo gli esperti, chi ha contratto il Covid è sì tutelato in quanto sviluppa gli anticorpi al virus, ma potrebbe essere colpito dalla nuova variante e la combinazione degli anticorpi naturali insieme alla terza dose del vaccino potrebbero fare da scudo per evitare ulteriori infezioni. Intanto il governatore della Toscana, Eugenio Gianni, si appresta a emettere un'ordinanza regionale per calmierare i prezzi dei tamponi rapidi e dei molecolari e stroncare l'odioso bagarinaggio in Toscana dove alcuni si sono ritrovati a pagare fino a 175 euro per un tampone. Gianni ha affermato che è già pronto un piano per raddoppiare l'offerta pubblica dei tamponi. Cercheremo di aumentare l'offerta, ha detto, ma dobbiamo essere in grado di evitare che ci siano fenomeni odiosi di lucro sulle spalle della gente. Il meccanismo delle scatole cinesi sui tamponi, società che comprano prenotazioni di tamponi dai laboratori e le rivendono a prezzi esorbitanti, va contrastato.